Oggi vediamo insieme un kit molto particolare, atomizzatore e box da 228W Kit Polar Night, subito dopo la sigla Ciao a tutti ragazzi, io sono Meoswap e vi do il benvenuto sul canale Oggi parliamo del kit Polar Night come kit entry level Di una semplicità estrema, una box che arriva fino a 228W con soli 3 pulsanti E un atomizzatore che si smonta con una facilità incredibile Ha un refill semplicissimo, una regolazione dell'aria e monta 2 coil sempre da 0,15 Con la differenza che una è a mesh e una è regular a triple coil Adesso lo andiamo a vedere da vicino e poi facciamo delle piccole considerazioni insieme Con prova di svapo Ecco quindi che vi presento tutto il contenuto della confezione del kit Polar Night High Style Mode, come potete vedere dalla parte destra cominciamo subito dall'atomizzatore Atomizzatore che si compone in vetrino, coil e base Come potete vedere la facilità di montaggio è unica in quanto basta abitare la coil sulla base Vi faccio vedere da vicino la coil a mesh Due coil contenute nella confezione Una mesh da 0,15 che va da 40 a 80W E la seconda coil invece che è da triple coil regular sempre 0,15 da 40 a 80W Montiamo quindi l'atomizzatore Polar Night Facilissimo da montare e lo andiamo a vedere dopo Passiamo invece al contenuto dove vedremo che ci sono il certificato di garanzia Un cavetto USB Un secondo vetrino di ricambio da 5 ml Libretto di istruzioni E certificato di autenticità Ed ecco la nostra box che con 5 clic si accende Con 3 clic entriamo nella modalità menu Dove abbiamo le basi principali Quali la modalità di selezione del tipo di coil Il tasto setting è appunto il tasto di reattività dell'erogazione fire Che noi andremo a impostare in questo caso su hard Poi abbiamo anche lo screen Quindi la tempistica di screen saver Quindi qualora il display si andrà a disattivare in 8 secondi Quindi 30, 60, 20 secondi lo decidete voi E andiamo a vedere come nello screen Quindi nella modalità display Sembra quasi come se lo schermo si dovesse estendere anche nella seconda parte inferiore Ma invece rimane semplicemente nella seconda parte superiore Questo perché secondo me è stato proprio fatto in questo modo Senza capirne proprio il motivo Anche perché questo funge da specchio Per quanto riguarda la parte Il contenuto del display abbiamo sia la carica delle due batterie La modalità power impostata I watt che sono 60 Li possiamo aumentare fino a 228 I puff 136 I volt e gli ohm Abbiamo il tasto fire Il tasto più Meno E la ricarica usb Il pin L'attacco del pin è mobile Ed è proprio al centro della box La parte posteriore invece della box Dove l'aerografia in questo caso è di colore blu e nero Sono tutte aerografie sgargianti Ce n'è una dorata che è veramente carina Mentre l'alloggiamento delle 18650 è comodo Funziona bene E i tre punti calamitati che coincidono con quelli della cover Permettono il fissarsi della stessa E devo dire che funziona bene Non c'è nessun tipo di movimento Anche l'estrazione avviene con una certa facilità Grazie a questo scadino Andiamo a vedere invece il nostro atomizzatore PolarNight IQ Come possiamo vedere è suddiviso nelle sue parti fondamentali Quindi Coil Base Tank E parte superiore Con drip tip Semplicissimo da montare Con due coil Una mesh e una regular Da 0,15 Per 40 Da 40 a 80 watt Il drip tip è semplicissimo In plastica Nulla di particolare E il refill avviene nella parte alta Come potete vedere Refill alla vecchia maniera Nulla di particolare Per quanto riguarda la capienza è di 5 ml Invece andiamo a vedere come La regolazione dell'aria avviene nella parte bassa Abbiamo un lock qui E scorrevole Sembra funzionare bene Base del tank Scritta PolarNight I cool Marchio C Numero 3431 In placato oro Va bene Ragazzi non ci resta che andarlo a provare Lo proviamo ad aria aperta Quindi completamente aperta All'interno sembra che veramente ci stia Un filtro di un'automobile E a metà Allora in conclusione abbiamo visto come il kit funziona bene È un ottimo entry level La box nella sua semplicità Ti dà la possibilità di utilizzare tutte le funzioni in maniera intuitiva Mentre per quello che riguarda il display Mi è dispiaciuto che non si può estendere anche nella seconda parte inferiore Inoltre La sua colorazione ti dà un grip che comunque è eccellente anche nella presa della mano Per quello che riguarda l'atomizzatore invece è come se fosse un preco tank maggiorato Quindi un preco tank da cloud Abbiamo infatti una regolazione dell'aria spropositata Delle coil che comunque hanno un consumo di liquido da prendere in considerazione Per quanto riguarda il drip tip niente di particolare Solo che lascia molta condensa nella parte superiore E basta ragazzi Detto questo è un ottimo entry level Per me prende una valutazione che va dal 6,5 al 7 Lo trovate a prezzo di 45 dollari Al link che vi ho dato in descrizione Se vi è piaciuto il video Iscrivetevi al canale Lasciate un like E alla prossima